Salve a tutti, noi siamo due studentesse dell'ISIS Valdarno e Mirizomola per presentarvi il nostro progetto che si basa sull'alternanza della scuola lavoro e sperimenta la didattica disciplinare e interdisciplinare. Il progetto ha vissuto l'intero svolgimento dell'interproduttivo del prodotto tessile dalla progettazione. Ringraziamo il nostro presidente, il dottor Lorenzo Perazzi, per averci dato l'opportunità di svolgere questo progetto. Ringraziamo anche le professoresse Belli e Sepanagia che ci hanno invitato nei processi di questo lavoro. Ma soprattutto ringraziamo Paola Ravasio, la titolare del negozio Paola Lesac, per la grande opportunità che ci ha dato e per aver creduto in noi. Adesso vi lasciamo alla visione del nostro progetto e buona visione a tutti. Grazie. 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 Play hard, keep partagin' like it's your job Work hard, play hard, work hard, play hard We work hard, play hard, keep partagin' like it's your job Some fresh to death lookin' pub Ladies can't get enough Got my fitness all lookin' buff And all my people with my trust Holdin' down for my city If they askin' you, I'm not guilty All I say that I'm guilty of This makes me a rock with me Work it out I'm a gang of cash And it's going all on the ball And it's going fast Cause I feel like a superstar Work it out Il tutto superiore Valdarno di San Giovanni è polo professionale oro e moda e nel rapporto virtuoso con il territorio un'idea realizzata da alcune classi dell'indirizzo moda con un'azienda nota nel nostro comprensorio Paola Lesac Alcuni gadget natalizi che le ragazze con la filiera della produzione hanno alla fine realizzato partendo proprio da un'idea molto originale Il progetto è stato presentato nel laboratorio CAD dell'Ipsia Marconi Allora, sono state realizzate due lasti indirizzo moda ed è stata un'esperienza molto interessante perché abbiamo anche un po' scoperto il mondo del lavoro ci siamo molto divertite è stata però una cosa molto impegnativa Completiamo il nostro servizio con Paola Ravasio che è la destinataria finale del lavoro delle ragazze Un giudizio, un voto non gli odiamo ma sicuramente è un prodotto molto molto interessante anche per voi Volevo realizzare questo prodotto da regalare alle mie clienti ma doveva essere una cosa giovane e innovativa e hanno realizzato il meglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti